il primo e il secondo mestiere di primo levi il primo cioè il mestiere del chimico e il secondo il mestiere dello scrittore letteralmente concretamente intrecciati nelle opere che saranno in mostra a milano e che ci consentono di conoscere da vicino un artista unico in italia che ha saputo intrecciare il sapere e la sapienza del suo fare tecnico scientifico nel fare della scrittura Grazie 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 Grazie